Salve a tutti, oggi vedremo come bloccare l'invito o comunque un'applicazione in termine generale Ci sono due modi, quindi l'applicazione intendiamo giochi che sono quelli con più frequenza arriva inviti Quindi vediamo come fare, allora entriamo su impostazioni, andiamo qui su blocco Dopodiché scendiamo giù e come vedete c'è due opzioni di blocco per le applicazioni Quindi o scegliete blocco di inviti alle applicazioni, quindi in questo caso voi non riceverete più inviti ad applicazioni da una data persona La quale andrete a inserire qui il nome Mettiamo io non voglio ricevere più inviti da mio fratello Mario Rossi Scriverò Mario Rossi qui e non riceverò più inviti a nessuna applicazione da parte di Mario Rossi Oppure voglio bloccare un'applicazione specifica Allora in questo caso scriverò il nome dell'applicazione qui, il nome del gioco qui E non riceverò più inviti da nessuno a quel tipo di applicazione, a quel tipo di gioco Quindi spero vi sia piaciuto, per oggi è tutto E ci sentiamo alla prossima